Da più di 50 anni l'Università Cattolica del Sacco Cuore è presente nel Centro Storico di Brescia. Il campus ospita sei facoltà che spaziano tra diversi ambiti disciplinari. Qui a Brescia l'attenzione a metodo scientifico è fondamentale. Studio teorico e attività pratiche si fondono in un unico percorso. Strutture laboratorie all'avanguardia facilitano l'attività accademica, una ricca strumentazione per le discipline scientifiche, uno spazio completamente riservato alle attività cinematografiche e a numerose iniziative extracurricolari. Tutto questo per garantire un buon percorso universitario. Sì, perché a Brescia numeri e protoni si mescolano tanta creatività ponendo al centro la persona e la sua formazione. Nel campus ci sono le aule informatiche e la biblioteca e chi non fosse di Brescia può trovare ospitalità nelle residenze e raggiungere tutti i valori necessari con i mezzi pubblici. Per qualsiasi dubbio o informazione il personale incaricato risponderà ad ogni domanda e per i primi anni di vita universitaria i tutor saranno un riferimento costante. L'università è una scelta importante, è la tua crescita professionale, è la tua crescita personale. L'università è una scelta importante, è la tua crescita personale, è la tua crescita personale, è la tua crescita personale. Sì, perché è la tua crescita per la crescita personale.